L'Islam si divide. Alla morte del profeta Maometto nel 632 tutte le tribù della penisola araba sono islamiche e a questo punto il problema è individuare un successore. Infatti Maometto non aveva lasciato alcuna disposizione relativa al suo successore. Il gruppo di seguaci del profeta decide quindi di nominare Abu Bakr, che prende il titolo di califo, come suo successore. Non tutti i seguaci di Maometto e dell'Islam sono d'accordo con questa idea e alcuni ritengono che Ali, il genero di Maometto, debba prendere il potere. A questo punto quindi l'Islam, l'Islam per meglio dire, si divide in due parti, l'Islam sciita e l'Islam sunnita. Questa divisione dell'Islam è viva ancora oggi. Vediamo ora un pochino più nel dettaglio che cosa significa sciiti e sunniti. Gli sciiti sono il partito di Ali, letteralmente, e secondo i seguaci di questa parte dell'Islam, il potere doveva essere trasmesso solo a un discendente del profeta. Oggi gli islamici sciiti sono circa il 10-20% degli islamici mondiali e sono concentrati principalmente in Iran e parzialmente in Iraq e in Libano. L'altra parte, la maggior parte degli islamici invece, è sunnita e sono i fedeli alla sunna, cioè alla tradizione. Per tradizione intendiamo qui tutto l'insieme delle cose dette, degli atti compiuti da Maometto in vita e tramandati poi di generazione in generazione. Oggi, appunto, questa è la gran maggioranza degli islamici di tutto il mondo.